Quest'anno a Leima abbiamo pensato di parlare di bambù gigante in quanto per la prima volta in Italia si sta iniziando a piantare il bambù a scopo commerciale e industriale. Noi siamo il consorzio Bambù Italia che produce piante selezionate proprio per la realizzazione di impianti di bambù gigante a scopo commerciale e industriale. Una cosa che viene fatta in tutto il mondo tranne che in Europa e negli Stati Uniti dove il bambù finora è stato considerato solo a scopo ornamentale. Cioè è stato introdotto 40-50 anni fa perché è una pianta bellissima ma solo per realizzare giardini ignorando totalmente i prodotti del bambù che sono straordinari. Un legname col quale si può realizzare tutto quello che si realizza con il legno, un legname però da foresta rinnovabile che viene riprodotto ogni anno. E il germoglio alimentare, un germoglio di una qualità organolettica straordinaria, contiene tutti gli aminoacidi essenziali, vitamine, proteine ed è proprio in linea con le esigenze della nostra società. Una società che va verso un'alimentazione sempre più sana quindi con un maggiore uso di verdure e alimenti sani. La coltivazione del bambù è inoltre una coltivazione che non necessita l'uso di nessun pesticida perché il bambù è una pianta molto rustica che si adatta a qualsiasi tipo di terreno e ha degli antibiotici e degli antimicotici naturali che la rendono praticamente invulnerabile agli attacchi di batteri o di altre patologie. Quindi noi cosa stiamo facendo? Stiamo presentando agli agricoltori la coltivazione del bambù. Abbiamo un progetto che è iniziato quattro anni fa e si è concluso quest'anno con l'entrata sul mercato dei nostri articoli. Abbiamo già prenotazioni per oltre 700 ettari in tutta Italia. Stiamo realizzando ogni giorno bambusetti in Puglia, Sicilia, Piemonte, in tutte le regioni d'Italia e la cosa si sta espandendo enormemente. Con il bambù possiamo realizzare una miriade di applicazioni. C'è oltre 1500 applicazioni commerciali e industriali. Andiamo dalla bioedilizia all'utilizzo per la cellulosa, per il filato, si fanno dei filati eccellenti di fibra di bambù, all'utilizzazione anche a scopi energetici oppure oggettistiche varie, può sostituire addirittura in tanti casi la plastica, oltre che il legno. L'alimentazione, il germoglio di bambù è un'alimentazione pregiata in Oriente. In Oriente è un alimento molto quotato. Come ho già detto, contiene tutti gli aminoacidi essenziali, vitamine e proteine e può essere utilizzato, cotto nelle più svariate ricette, bollito, fritto, in umido, in tantissimi modi.